E' un po' da lenti? Non puo' parlare. No, si, si. Che spero? Abbiamo provato il sacco con questo qua, quello che abbiamo comprato. Questa invece è quella che ti dicevo, la pasta. E' un po' più... E' un po' più solido. Mi sa pure se è più incostato. Ok, ok, grazie. Patagli.